Caro Sindaco, caro Presidente della Regione, cara Direttrice Generale, quando si visita un laboratorio, un posto come questo, la prima cosa che viene da dire è grazie, grazie a voi, grazie ai medici, agli operatori sanitari, ai dirigenti sanitari, a tutti il personale perché una visita di questo genere fa essere orgogliosi, quindi fatemi fare innanzitutto la parte del Presidente del Consiglio che vi ringrazia perché siamo orgogliosi del livello di qualità e di efficienza che offre una struttura come questa. Grazie veramente a tutti. Perché la visita mi ha colpito? Innanzitutto per il livello di tecnologia, di innovazione, avevo mai visto un robot che spostava prevette in un laboratorio di analisi. Per le dimensioni di questo laboratorio così moderno e tecnologico, il più grande di Europa se ho capito bene, per il fatto che si realizzano delle economie di scala che come succede spesso, forse non sempre ma io penso molto spesso, non vanno affatto a discapito della qualità, anzi al contrario, quindi mi ha molto colpito l'attenzione che qui viene data non solo appunto alle tecnologie all'avanguardia, alle modalità in cui funziona il laboratorio ma anche lo sforzo per avere sempre di più un livello di appropriatezza nelle diagnosi, un uso intelligente ed efficiente delle analisi che vengono commissionate, che vengono fatte, al punto che si è orgogliosi di dire che c'è stata una riduzione, se ho capito bene, nel numero di analisi complessive che sono stati frapposti ostacoli nei confronti dei cittadini o dei medici a commissionare le analisi, ma perché si sono indirizzate con delle linee guida verso un utilizzo più appropriato, più ragionevole, più efficiente delle analisi medesime. Poi si vede uno sforzo, io credo, un notevolissimo di prossimità nei confronti dei medici e dei pazienti sparsi nel territorio che ricavano da questo sistema la possibilità di avere chi in rete, chi a domicilio, chi attraverso il proprio medico, molto rapidamente referti, accurati informazioni nella totale affidabilità e sicurezza. Quindi per questo io credo che dobbiamo essere orgogliosi di una realizzazione come questa che ha comportato anche delle innovazioni amministrative, delle fusioni tra strutture amministrative diverse, degli impegni per il sistema sanitario. È un modo, l'orgoglio di cui vi voglio dare atto da parte del Governo, è un modo anche per riconoscere una eccellenza italiana in campo sanitario. Noi non siamo sempre abituati a riconoscere, a guardare in faccia questa eccellenza italiana, però dobbiamo essere invece consapevoli che in buona parte del nostro territorio noi abbiamo strutture sanitarie di qualità e addirittura in molti casi strutture sanitarie che potrebbero essere annoverate tra le migliori, le più innovative, le più efficienti d'Europa. Non vuol dire che non ci sia molta strada e molto lavoro da fare, ma vuol dire che bisogna sfatare le leggende metropolitane di un Paese in cui il sistema sanitario è soltanto motore di scandali o peggio motore di strane invenzioni in rete, addirittura contro la medicina, contro la scienza, contro la serietà degli studi e della ricerca che viene fatto. No, il nostro sistema sanitario è una realtà di cui possiamo andare orgogliosi con tutti i suoi difetti, con tutte le cose che devono essere migliorate, ma senza descriverlo con un quadro distruttivo che non ha nessun riscontro vero nella realtà, perché la realtà è fatta dal vostro impegno e dalla vostra capacità professionali e di lavoro. Fatemi dire che questo rappresenta dal mio punto di vista la qualità della sanità pubblica, ancora in alcune parti, soprattutto nel nostro territorio, una sfida aperta e da vincere, un pilastro della nostra società. Prima Stefano Bonaccini ricordava l'impegno anche finanziario che non è mai sufficiente, ma che testimonia del fatto che il Governo continua a considerare l'impegno per la sanità pubblica come assolutamente fondamentale. Il nostro modello di società ha questo come uno dei suoi pilastri. Siamo abituati a vivere in una società in cui l'accesso al sistema sanitario per tutti i cittadini in condizioni di parità è una base della nostra convivenza. Sembra una cosa banale e in fondo in Europa è una conquista consolidata da tempo, ma non è una cosa banale. È uno di quei valori, lo dico oggi, che per l'appunto, come ricordava Stefano è la festa dell'Europa, è uno di quei valori che fanno la differenza della civiltà e delle società europee rispetto ad altre realtà. Quindi noi siamo abituati a questo valore, ma quando lo riconosciamo ci rendiamo conto di quanto sia importante avere una sanità pubblica aperta a tutti i cittadini. In un contesto come il nostro, italiano, in cui noi certamente abbiamo dei livelli di qualità della vita elevati, delle aspettative di vita molto longeve rispetto al contesto di altri paesi, siamo uno dei paesi che ha, come sapete, le aspettative di vita più elevate, e tuttavia questo non solo non riduce la domanda di sanità, ma tendenzialmente, come sapete bene, la aumenta, perché questa meravigliosa realtà che è l'invecchiamento della nostra popolazione, che non è un problema ma è una conquista meravigliosa, ovviamente carica sul sistema sanitario responsabilità sempre più rilevante e poterle affrontare in modo efficiente è sempre più decisivo. Lo voglio dire non soltanto sul piano della qualità dei servizi sanitari, direi più in generale il fatto che una società in cui le persone per fortuna raggiungono un'età che fino a alcuni decenni fa era più difficile raggiungere, sono anche delle società che spesso esprimono più che in altri casi un grande bisogno di sicurezza, cioè l'invecchiamento della popolazione produce un grandissimo bisogno e desiderio di sentirsi tutelati, protetti, sicuri e la sicurezza non è mai soltanto una questione di ordine pubblico. La sicurezza ha tanti fattori e per le persone che vanno avanti con gli anni è fondamentalmente sempre più qualcosa che ha a che fare con l'affidabilità, la prossimità, la reperibilità di un servizio sanitario pubblico efficiente e quindi con il vostro lavoro voi date a mio parere, assieme naturalmente a tutte le altre componenti dello Stato che contribuiscono alla sicurezza, un grandissimo contributo al fatto che i nostri concittadini si sentano più sicuri. È un diritto, però è un diritto prezioso nella società in cui noi oggi viviamo e anche di questo credo dovete essere orgogliosi. Infine voglio dire al sindaco e al presidente della regione che il governo non solo nel campo della sanità ma anche nel campo degli impegni con la regione e con la città di Bologna mantiene i propri impegni. Come ha detto il sindaco Merola lavoreremo nelle prossime settimane per definirli in modo completo ma abbiamo un impegno e l'impegno verrà mantenuto. E al tempo stesso lasciatemi anche dire che mi fa molto piacere oggi aver potuto visitare prima nei comuni colpiti dal terremoto di cinque anni fa a Crevalcore e nei comuni emiliani colpiti dal terremoto e adesso qui all'ospedale maggiore senza fare paragoni naturalmente mi ha fatto molto piacere poter visitare due realtà che sono accomunate da una cosa molto semplice e cioè la capacità che ha il nostro paese quando si gioca insieme, quando si fa sistema, quando ognuno dà un contributo volontario, professionale, istituzionale, economico, abbiamo delle straordinarie storie di successo. Banalmente siamo capaci di dare il buon esempio e grazie perché voi veramente ci state dando un buon esempio. Grazie a tutti.